Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornati in un nuovo vlog. Allora, martedì questo, sono andata sempre allo stage, anche se c'era l'alta arancione, e oltre a quello poi nulla. Mi sono divertita abbastanza e devo dire nulla di troppo interessante. Sì, scusatemi. Vabbè, oltre a quello praticamente, poi sono stata a casa, rilassami un po' anche perché ero stanchissima, anche perché, non lo so, mi andava di dormire probabilmente. Vabbè, oltre a quello nulla. Io, scusate se sono acceccata dalla luce, ok? Allora, oltre a quello, io adesso vi mando un bacione e noi ci vediamo tra poco con un altro vlog. E comunque, martedì, a parte lo stage, non ho fatto nulla di troppo importante, diciamo. Sono stata a casa a rilassarmi. Sì, questa è la pura verità. Vabbè, oltre a quello nulla. Vi mando un bacione. Ciao!